In quest'altro video tutorial per la compilazione della domanda per il concorso ordinario della scuola secondaria di primo e secondo grado vediamo come si inseriscono i titoli di servizio. È importante dire che vanno inseriti tutti i titoli di servizio con almeno 180 giorni in un anno oppure anche meno di 180 giorni dal primo di febbraio in maniera consumativa fino al giorno degli scrutini di fine anno. Andiamo a vedere come si compila la sezione titoli di servizio. Si va in azioni disponibili, si clicca su azioni disponibili e si entra in questa pagina dove si possono aggiungere, vedete questa barra arancione che quando si avvicina alla mano diventa bianca, si clicca, diventa verde e si può inserire il titolo di servizio. È obbligatorio inserire l'anno scolastico, qua vediamo un 2000-2001 già inserito, però si può inserire proprio manualmente l'anno che si vuole, per esempio il 1994-1095. Ecco, quest'anno scolastico qua, immaginiamo che un docente abbia prestato servizio in una scuola statale, il servizio si è prestato sul posto comune e dunque no sul posto di sostegno e la classe di concorso si è atta in margine della scuola secondaria di primo grado. Il servizio è prestato nei percorsi di sostegno? No, perché è in una scuola statale italiana. Poi sul servizio abbiamo due tipologie, o diamo i periodi dal al, oppure il servizio prestato ininterrottamente, come dicevo, dal primo febbraio, basta cliccare qui, in questo caso sarebbe sufficiente come anno, oppure si clicca, immaginiamo che si sia fatto dal settembre del 94, dal settembre 94 al settembre, per esempio immaginiamo dal 20 settembre del 94 al 30 giugno del 95, se andiamo a prendere 1995, facciamo giugno 30, ecco, questo qui è un servizio valido che vale un anno, a questo punto si deve dire dove si è svolto questo servizio, è un'istituzione scolastica, per esempio istituto comprensivo Diego Vitriori, si seleziona la provincia, per esempio Reggio Calabria, dove sta questa scuola, è il comune di Reggio Calabria, si sceglie, proprio si va a scorrere, si sceglie il comune, e a questo punto, avendo inserito tutti i campi, si fa salva, e così rimane salvato l'anno di riferimento di questo titolo, così facendo, se si vuole inserire un secondo anno di servizio, o un terzo anno, o chi ne ha di più, ha anche di più, basta riaccedere attraverso questo modifica, e si fa aggiungi di nuovo, cioè si rifà, vedete, se io rifaccio aggiungi, avrò un secondo anno che posso inserire, identicamente al primo, e si fa di nuovo salva, e così gli anni saranno due, tre, e così via. Speriamo che questo video tutorial sia stato utile per i nostri lettori, seguiteci ancora nel nostro canale YouTube o nel nostro sito www.tecnica-de-la-scuola.it perché faremo altri video su questa tipologia, proprio per far vedere come si compila correttamente la domanda di partecipazione al concorso ordinario, sia per la scuola secondaria, sia per la scuola primaria o dell'infanzia. Un saluto a tutti i nostri lettori.